metterli insieme in questi due termini o indicare la loro dissociazione a me è ultimamente una particella che Lacan utilizza spesso, che mette in risalto la particella con, avec in francese. Per Aristotele l'uomo pensa con la sua anima. C'è un bellissimo passaggio, non ricordo più dove, di Lacan dove dice che, più o meno, l'analizzante analizza con il suo analista. Ebbene, si può dire l'inconscio lavora con il cervello? No, non si può dire. Si può dire il cervello lavora con l'inconscio? È limitativo, è troppo poco. Io direi il parlessere lavora, funziona con il corpo.